e ora tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video sono il vostro LL Colle siamo qui alla saga di Final Fantasy già era un piscatole ho piscatole vediamo piscatole iiii ho piscatole mamma mia amma sto ammazzo che agilità ragazzi che agilità che ha un piccolo urtino perché ho digerito appena mangiato piccolo urtino piccolino piccolino appena appena mangiato piccolo urtino piccolino piccolino basta 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 no basta basta cosa era basta o basta mi ricordo basta 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 con la P o con la B con i messaggi o massaggi con la E e la passa passa mi ricordi che è un casino queste parole mamma mia ci sta ci sta però veramente c'è un caos a aggiungi lista la lista la lista la lista la lista cronica a ha Ma qua ci sono i membri? Ce ne sono noi tre? Zell, Spall e Seiphar? l'esame pratico ABCD addirittura la guerra immaginatelo semmai faranno un film che uscirà al cinema su Final Fantasy VIII spettacolo sarebbe un spettacolo cioè questo è un punto non problematico ma basta e che problemi c'ha questo lui seppre si decide mamma mia mamma mia con me sto io portacci vostro non ho capito ma gunblade o gunblade? cioè quella spada storta a stile fucile pistola mamma mia a me stiamo messi male però mamma mia come siamo messi male come siamo messi male perché male? oh quando uno ti fa male ti fa male se fa male si fa male perché sei nì caro là ciocca lì ciocca là ciocca qui ciocca là ciocca qui ciocca là come era? cioè la giovanizzazione come insegna qualcosa mamma mia ciocca lì ciocca là è un tirco eh cioè non fa vedere la spada è un tirco ma è lì mortè 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 un po' di allenamento ma sì dai allineiamoci che noia che noia che dico lo senti? ah 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 all'angallinaccio cosa rtexto cosa hai detto?! che si chiama? che ci hai detto? che cosa ti ho detto? che cosa hai oddio proprio la pazzia cosi me selma a il 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 sa in c'è una squadra di gallinaccio c'è una squadra c'è un gallinaccio c'è una ragazzina mamma mia ma come si fa a tenere una squadra così? non si può avere una squadra così contro me è brutto c'è un gallinaccio non cerca la ragazzina mamma mia re Share uom f cu core usando ula cu Lip cu fuel li cu cu Tutti di fretta qua, mamma mia, tutti di fretta, ma cos'è la sua storia? Il frettoloidi, ma cos'è il frettoloidi, mamma mia, se ne io posso inventarmi sti nomi, ma basta, veramente. Il frettoloidi, mamma mia. E ti piacciono gli esami, cioè uno ripete sempre gli esami e gli piacciono gli esami, però non viene mai pronto, ma chissà come è mai. C'è la guerra a Dole, a Dole. I dollettiani, come si chiamano gli abitanti di Dole? I dollettiani, che battute, che personaggio che sono. Mangia la faccia mia, quanto queste battute del... Di niente. Andiamo avanti. E che battuta ora già! I dollettiani, va! I biaggi! I dollettiani, va! Sbarchiamo tra poco! C'è una battaglia suicida! Cioè andiamo a morire a sto punto! Cioè una parola sola, stiamo andando a morire! Cioè uno avanti. Ja. Quarte! Ma sembra litigano, sembra i sanzi e zoro che litigano di continuo, amma mia, ho ricevuto, ho ricevuto, ho ricevuto, ho ricevuto, ho ricevuto. Che antipatico sei, mamma mia, antipatia, ma portami via. Guarda le barche, sembrava la luna, invece il mare, il mare oceano. E' grande, non è nave, ho. Anche questa sottomarina. Il capitano, sembra il capitano. Ammazza. Quanto è serio? Cioè lì c'è la guerra, lui è serio. Cioè la sua prima guerra, battaglia sul campo, spacca tutto, spacca tutto. Cioè noi saremo la squadra B, dobbiamo stare lì a vedere la piazza principale. Cioè che esame è questo qualcuno me lo spiega nei commenti. Un po', fa solo l'onore. Un po', fa solo l'onore. Cioè, ho fatto prima, avrà un po' più del piano. Un po', fa solo l'onore. Un po' più del piano. Un po' più del piano. Un po' più del piano. Come faremo la scontola? Un po' più del piano. Non è facile. Mi sono dimenticato di caricarmi. Un po' più del piano. Mi sono dimenticato di caricarmi. all'ultimo battaglio che ho fatto alla caverna di fuoco ho dimenticato di caricare bisogna stare attenti mi piacciono le battaglie a me nemico attacco per l'Italia siamo ragazzini però sono guerrieri sono ragazzini sono ragazzini sono ragazzini sono ragazzini non è da però buon ciao ahhh 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 ragazzi se vi è piaciuto questo episodio lasciate un like mi piace il link del suzino dei miei social iscrivetevi al mio canale se non l'avete mai fatto come sempre ci vediamo al prossimo episodio ahhh 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 ahhhh ahhhh ahhh ahhh Grazie a tutti